Mentre CD Projekt Red è al lavoro per risolvere i problemi di Cyberpunk 2077, ancora al centro delle polemiche, dopo un lancio quanto meno problematico, alcuni dataminer potrebbero aver scovato nei file di gioco qualche indizio sul comparto multiplayer del titolo, destinato ad arrivare in futuro e sul quale al momento non si hanno informazioni ufficiali. Prima di entrare nel dettaglio, vi invitiamo a cliccare sul pulsante iscriviti e ad attivare la campanella delle notifiche, due click per rimanere sempre al passo con le evoluzioni del mondo dei videogiochi e con la produzione video di EveryEye.it. Stando agli indizi scovati dai dataminer nel codice di Cyberpunk 2077, sembra che il titolo sia già predisposto per accogliere almeno due diverse modalità multiplayer. La prima sarebbe strutturata come un classico deathmatch, con un numero non ancora specificato di giocatori chiamati a contendersi la vittoria in tesi scontri online. Chiaramente non siamo ancora in grado di stabilire se il sistema di combattimento del titolo si dimostrerà adatto alle esigenze del multiplayer e non escludiamo modifiche e restrizioni pensate per bilanciare il gameplay. A questo proposito, sembra che tra le righe del codice ci sia qualche riferimento a un sistema di classi più rigido, che probabilmente sarà utilizzato anche per la seconda modalità di gioco, denominata Heist. I dati recuperati dai dataminer fanno pensare a un modello di gioco per certi versi vicino a quello di GTA Online, con gli utenti chiamati a muoversi liberamente in giro per la mappa per portare a termine delle quest in co-op, forse dei colpi e danni di gang e corporazioni. Un altro dettaglio emerso dal presunto leak riguarda la possibile assenza di server dedicati, visto che nei file vengono citate connessioni peer-to-peer, uno scenario potenzialmente problematico, visto le numerose variabili che possono inficiare l'esperienza con questo genere di architettura, anche in base al numero dei giocatori coinvolti in ogni sessione. Purtroppo i file di gioco non contengono dettagli più specifici e, soprattutto, questi riferimenti potrebbero essere residui di vecchie porzioni di codice del multiplayer che verranno completamente rimosse in futuro, dal momento che questa componente del gioco è ancora in sviluppo e potrebbero cambiare molte cose da qui all'uscita. In attesa di nuovi leak da parte dei dataminer, magari con l'arrivo dei prossimi aggiornamenti, fateci sapere nella sezione dedicata ai commenti cosa vi aspettate dal comparto multiplayer di Cyberpunk 2077.